Vediamo adesso il secondo esercizio con gli ostacoli, si tratta di eseguire dei balsi a piedi pari che servono a migliorare la reattività e la potenza dello scatto e del salto. Mi raccomando le ginocchia bene alte e reattive al terreno. Eseguiamo 4 serie di balsi, quindi riposiamo 2 minuti prima di passare agli esercizi con i coni. Grazie a tutti.